Solo così in video, Marco Gai, Presidente, stai rivedendo il discorso, ci interessa, noi ci siamo, al telefono hai appena parlato con il Presidente Squinzi, che cosa ti aspetti da queste due giorni? Che cosa ci interessa davvero? Ci interessa che ci sia un confronto, ci interessa che vengano messe da parte ideologie e regnite di posizione, lavorare insieme, quindi essere a disposizione per creare quello che ci aspettiamo, l'Italia che funzioni, l'Italia che ci meritiamo, come giovani e come imprese. Grazie, sono gli hashtag giusti vero? Sì C'è questa volontà? Ce n'è tanta, c'è tanta voglia di riscaldare Grazie, buon lavoro Ciao